Le review di Cellular Magazine Alcatel OneTouch 880 In questo filmato lo vediamo customizzato Miss 60 Il telefono è un telefono con connettività edge e possibilità di leggere l'email e comunicare nei social network di Facebook e Twitter Il display è da 2,4 pollici Touch resistivo Dispone il telefono di fotocamera da 2 megapixel Il telefono si apre ed ha una tastiera QWERTY fisica E' possibile utilizzarlo anche come lettore MP3 ed espandere la sua memoria con microSD Dispone di radio FM e connettività Bluetooth per potersi scambiare dati E nel software ha il browser Opera Mini per poter navigare in internet Ha come vediamo anche la possibilità di utilizzare widget Piccolo, compatto e leggero Ci saranno due versioni Una appunto, come detto prima, customizzata Miss 60 Che uscirà a maggio a 99 euro E la versione normale E la versione normale invece uscirà ad aprile a 89 euro La versione Miss 60 è sicuramente ideale per tutte le ragazze Mentre entrambi sono telefoni piuttosto fashion Che si abbinano molto bene anche al proprio abbigliamento Quindi qualcosa di estroso e di colorato Il telefono ha anche la radio FM Che può essere utilizzata come sveglia E in più la funzione webcam per la fotocamera da 2 megapixel Per questo filmato è tutto Alla prossima video recensione Un saluto da Stegiano E da Cellular Magazine Ciao